Non vediamo l'ora di iniziare, siamo tutti carichi, tutti vogliamo dare il massimo, stiamo attendendo infatti la data ufficiale e non vediamo l'ora di ripartire e fare vedere quello che sappiamo fare. Contro la Paganese è stata una bella partita, magari arrivavamo un po' dal ritiro, quindi eravamo un po' affaticati muscolarmente, però ci sta, magari non hai le gambe ancora che vanno bene, però abbiamo dimostrato che abbiamo un bel gioco e che ce la possiamo giocare con tutti. Allora io quando mi sono trovato, ho trovato un ambiente molto carichi e ho visto che il ritiro si lavorava veramente bene e veramente alla grande, quindi penso di fare un bel campionato sia con la squadra sia con gli altri compagni e speriamo di mettercela tutta e di dare il massimo. È una piazza molto bella e i tifosi ci sosterranno sempre e spero sempre di vederli così che ci sostengono e che vengono il più possibile allo stadio. Sì, c'è molto rispetto tra di noi, poi c'è molto rispetto e molta stima da parte di tutti e quando andiamo in campo poi ognuno darà il massimo e rispettiamo le scelte del misto. Forza Catanzaro! Ok, grazie.